Io sono uno dei genitori volontari, accompagnatori del Pedibus, questa esperienza la vivo insieme a molti altri genitori già da tre anni. Da subito è stata una bellissima esperienza arricchente per noi come per i nostri bambini. C'è da dire che avevamo delle perplessità all'inizio di questa attività. Temevamo che ci potessero essere delle difficoltà, che potesse essere difficile gestire i turni e che molti genitori poi non rispettassero l'impegno preso. Invece tutto questo non è successo, anzi ha coeso molto la nostra comunità. C'è anche da dire che in questi tre anni abbiamo vissuto una importante evoluzione. Quando abbiamo cominciato utilizzavamo questo registro cartaceo sul quale annotavamo le presenze dei bambini, così come le presenze dei volontari e quindi ci richiedeva questo minimo impegno. Invece dopo un po' la fondazione Bruno Kessler ci ha supportato e ci ha proposto l'utilizzo di un'app, di un'applicazione sul cellulare e di sensori che i nostri bambini mettono nei loro zaini. Anche questo sulle prime ci creava un po' di difficoltà. Temavamo poi che questa tecnologia potesse essere invadente. In realtà tutto è andato molto bene, non ci sono stati assolutamente problemi, i bambini tengono nello zaino questo sensore, nemmeno se ne accorgono. Noi utilizziamo con semplicità l'app e quindi anche questo si è rivelato essere un punto di forza e molto soddisfacente.